ciao ragazzi aggiornamento del negozio oggetti like per supportare il canale come ogni giorno codice creatore wander trattino alto creepy se lo usate taggatemi per supportarmi e per partecipare al contest winter e vincere pass battaglia skin gift card quello che volete tra poco c'è un nuovo pass quindi magari vi beccate il nuovo la nuova season al gratis dovrebbe uscire biliani uscire in realtà credo che arriverà domani però qualcuno dice che invece è oggi non è domani ora lo scopriamo subito arriva la rotellina e vediamo che cosa ci dicono gli astri allora star wars che sarà rimasto fino alla fine ma vediamo se c'è qualcosa di nuovo o ancora il solito che è direi ancora il solito le tracce le robe lego billy eilish per ora c'è solo la prima parte e poi nuovi cosmetici del del festival 800 vbac lama del drago di giada di chitarra il microfono elix box eccolo qua vediamo se si sblocca tipo una pozione carino e poi scacco matto la batteria 500 vbac non so perché la batteria è più grosso e costa di meno poi tracce gem ce ne sono una caterva nuova raga non si possono sentire altre 95 i calciatori terzo giorno sono rimasti sirena che c'è da un sacco di tempo bando ccfn ancora ivi ancora assassina atletica ancora poi abbiamo ancora look da istantanea che era terra le moto nuova raga non so se l'ho vista ieri bando il tempesta familiare 2000 vbac non usciva da un po regalo guardiamo velocemente perché è uscita la nuova billy e quindi aveva ragione luca taro e nara anzi la versione femminile poi abbiamo una versione maschile taro eccolo qua è il primo back il secondo back perché dietro alla schiena primo back dietro alla schiena il piccotto guardiano e il deltaplano carpa volante l'ho visto forse una volta in tutta la mia vita soltanto le schien 1500 800 il deltaplano 500 invece il piccone andiamo invece ora la nuova billy 2300 vbac ci danno tutto il bundle con la skin due dorsi decorativi la chitarra e una batteria lo guardiamo nel nel dettaglio più che altro billy da capire se a ok ha solo due stili non ne ha tre pensavo che uno fosse reattivo col cappello e senza cappello praticamente cambia poco raga secondo me è più bellina quella del pass anche se questa è più stilosa in fatto di abbigliamento non so non so se da prendere oppure no scrivetelo magari nei commenti se a voi piace la versione lego eccola qua poi abbiamo lo zenetto che è reattivo praticamente si chiude il cappuccio quando ci sono le kill le alette che dovrebbero essere invece reattive forse alla musica invece non mi sta di no che sono proprio così e basta si muovono però vabbè la batteria e la chitarra chi gioca festival è utile se no quel punto lì vi conviene prendere soltanto la skin poi se vi piacciono anche i back allora risparmiate prendete tutto insieme comunque voto così così sei e mezzo raga non molto meglio con la verde poi abbiamo flusso di forte serie di coni ritmo da paura 500 v baccozzi io sinceramente raga non mi ricordo le musiche le canzoni domino dance poi abbiamo sei so raga e beh questa da scioppare se non ce l'avete rimbalzo incrociato eccolo qua smizi 500 vbac è bello anche smizi ci può stare poi futurama è ancora rimasto e penso sia finire insomma due bombette da serie di icone billy eilish nuova eh sì raga questa verde secondo me è mille volte meglio fatta abbastanza abbastanza fatta molto meglio più stirosa l'altra in quanto a vestiti ma per tutto il resto vince la verde ok ci fermiamo qui raga like ozzo mi raccomando per supportare il canale codici creatore già detto sempre attivo se lo usate mi raccomando taggatemi noi ci vediamo domani in live dalle 3 del pomerello sul canale viola se vi vedi venire a giocare facciamo un po di brawl stars visto che vedo che quando siamo in live vi piace di più ciao ciao